Il passetto è stato voluto dal Consiglio Presbiterale per la Giocesi, in riferimento a alcuni aspetti che voi avete anche molto ben delineato nelle domande, quelle tre domande che sono state fatte. Quindi, da quella che era la situazione socioculturale che stiamo vivendo, il territorio della Giocesi è diverso, anche la città, la periferia, ci sono varianti. Questo è un momento forte in cui dobbiamo assumere anche con intero uno sguardo realistico su questo nostro mondo, ma anche carico di scheranzi, a tanti problemi che sta affrontando. Quando mi ha parlato di un momento, di un piano di scendimento, che è la Gesuita, infatti, vede il discorso del scendimento che sta in scontro, ma in termini neanche di conto, ma in termini di dialogo. Assumono la responsabilità, l'idea, il pastorale, l'amministrazione. Beh, sono i sacerdoti, sono i giacomi, sono i laici, le figlie, eccetera. Ecco, questi soggetti, come l'amore, il pastorale, l'amore attorno a te, in pratica, quindi a un certo punto è uno scritto presente. E invece il discorso è già cambiato per un concilio, nel circolo in cui si guardano, non guardano, e non sai bene chi ha il centro, il circolo. Il circolo, se qui sei massimo, per me parli, ti conosci, ecco. E chiaramente il circolo deve avere un centro, anche, diciamo, fondamentale. E il centro è la voce di Cristo, ecco, la presenza di Cristo, non è il suo spirito, è un centro. Grazie. Grazie. Grazie.